Questa mattina alla stazione di merito Portosalvo una protesta simbolica, raccontiamola bene. Una protesta simbolica per opporsi alla soppressione dei treni a lunga percorrenza che mortificano ancora di più un territorio già fortemente penalizzato dal punto di vista del trasporto pubblico. Noi abbiamo colto subito l'invito del sindaco di Melito nella sua qualità di presidente dell'associazione dei sindaci dell'area grecanica, sia io che il collega Agostino Zavettieri. Abbiamo presenziato al passaggio di questo treno della protesta per dare la nostra solidarietà a chi protestava e per fare risuonare anche sui nostri territori l'impellenza di questa protesta. E l'importanza anche della stessa. Ecco, secondo noi varrà molto poco, nel senso che si continua a protestare anche pacificamente, anche con numeri abbastanza consistenti, non è il caso di questa mattina, però poi alla fine le cose non vanno per il verso sperato. Ma la chiave di lettura è proprio quella che hai dato tu, nel senso che varrà poco proprio perché non ha i numeri e ha quei numeri che abbiamo visto stamattina. C'erano veramente pochissime persone su un treno di passaggio a protestare per questa... Come se la cosa non interessasse a nessuno, invece poi tocca un po' a tutti perché bene o male possiamo avere la necessità di prendere un treno. Sì, sì, abbiamo tutti questa necessità ma nessuno di noi ha questa volontà. Quando avevamo le opportunità di farlo il nostro trasporto pubblico lo abbiamo sempre, diciamo così, lo abbiamo sempre scartato come possibilità di movimento. Adesso che ci viene sottratto la protesta è normale che sia molto, molto flebile. Manca una cultura del trasporto pubblico, è sempre mancata una cultura del trasporto pubblico, si è sempre utilizzata l'auto propria. Vuoi per una situazione disagiata delle strade, dell'entroterra, vuoi anche proprio per una, diciamo così, una cultura, un'impostazione familiare che ha sempre preferito la macchina propria, l'auto propria all'uso del mezzo pubblico. Ecco, una cultura che però a Bagalari è un po' all'avanguardia. Abbiamo notizia di questi giorni che è stato installato il primo impianto di pala eolica, adesso no, il primo aerogeneratore. Quello era il termine tecnico. Quindi, diciamo, pur essendo Bagalari un paese interno quindi svantaggiato sotto tanti punti di vista, nel senso dell'energia si può dire che è un passo in avanti rispetto a tutta l'area? Sì, è una scelta che era stata fatta nel 2002, quella di puntare sulla produzione di energia elettrica dalla forza del vento che c'è in abbondanza su, soprattutto ai piani di Lopa, a quota 1000-1100 metri, nel comune di Bagalari. Proprio in questi giorni è stato installato il primo dei 14 aerogeneratori che costituirà il parco eolico dei piani di Lopa. È un momento significativo, un momento molto importante per tutta la comunità perché da anni aspettiamo di vedere realizzato questo sogno. Un sogno che porterà benefici non soltanto di immagine perché si tratta del primo parco eolico in provincia di Reggio Calabria ma anche dal punto di vista economico perché essendo il parco proprio realizzato su terreni di proprietà comunale il comune beneficerà come percentuale di energia prodotta e come introiti dai canoni di locazione dove sono appunto installati gli aerogeneratori. Ecco in sintesi i costi e benefici? Dunque i costi per il comune nessuno perché è un impianto realizzato da Enel Green Power e quindi è Enel che ha investito sul nostro territorio in forza di un'autorizzazione regionale e quindi il comune non ha assolutamente nessun tipo di costo. I benefici sono scritti in una convenzione che adesso non ricordo appieno, però per 15 o 20 anni il comune percepirà il canone di locazione, una parte di energia prodotta, un unatantum che è abbastanza sostanzioso quando il parco entrerà in produzione e dovrebbe essere entro il 2012 e quindi è abbastanza vantaggioso. La mia idea è una volta realizzato il parco quella di ampliarlo perché ci sono tante altre zone, tante altre aree limitrofe a quelle dove si sta realizzando il parco che hanno le stesse caratteristiche di ventosità, di accessibilità e ovviamente amplierebbero le possibilità e le opportunità di crescita del mio comune. Senza parlare della possibilità anche occupazionale perché un parco eolico prevede, non dico grossissimi posti di lavoro ma sicuramente 4-5 unità verranno assunte e più... Assunte dal comune direttamente? No, da Enel Green Power. Ma l'accordo è stato fatto col comune e quindi saranno persone diciamo del comune di Bagalati oppure no? Questo non lo so, saranno comunque dei tecnici, delle persone che verranno lì a fare un po' di guardiania, un po' di manutenzione sull'impianto e anche se non saranno di Bagalati comunque saranno 4-5 persone dell'area che quotidianamente saranno stanziali lì a Bagalati, mangeranno, spenderanno, dormiranno. E soprattutto lavoreranno. E soprattutto lavoreranno, per cui c'è anche un po' di indotto, senza calcolare anche l'indotto che può creare l'attrazione di vedere un parco eolico. Noi speriamo di organizzarci subito dopo Natale con una campagna nelle scuole di sensibilizzazione in tutte le scuole della provincia. Ho già contattato buona parte dei dirigenti scolastici, soprattutto dei comuni dell'entroterra, in accordo col Parco Nazionale d'Aspromonte, per portare a Bagalati tutte le scolaresche della provincia a vedere questa opera che in provincia di Reggio Calabria, ripeto, è la prima. Bene, e noi aspettiamo anche per venire a visitare i piani di Lopa. Grazie. 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 Grazie.